Qualsiasi cosa ragazzi lasciate like al video e iscrivetevi al canale per non perdervi niente dei video futuri Controllate anche i miei video precedenti se vi va di vedere qualcosa Soprattutto ragazzi cliccate sulla campanella ozza per ricevere le notifiche dei miei video futuri Buona visione Quel mostro! Malfatto! Dove è andato? Di là! Di là! Oh mina! Ti avevo detto di non venire qui! Animale! Requiescati in pace Sono un troppo giovane per morire! Dio del cielo